Seguono sentieri di montagna Scivolano dalle colline moreniche alla pianura Tra prealpi varesine e fiume di Cino Le ruote sfiorano laghi vasti come il Verbano e il Ceresio Lambiscono innumerevoli specchi d'acqua più raccolti Ricalcano traiettorie che hanno fatto la storia del ciclismo sportivo su strada Percorsi che svelano testimonianze artistiche e storiche uniche Una natura al tempo stesso fragile e potente Paesaggi che ti ricorderai Varese Do You Bike è un sistema di offerte e servizi integrati per il cicloturismo 45 itinerari per 2000 km di percorsi suddivisi in tre livelli di difficoltà Famiglia, cicloturista e sportivo Stazioni di ricarica per i bike e aziende convenzionate tra gli operatori del settore Un gruppo di guide certificate e appassionate, pronte ad accompagnarti su ogni tracciato Varese è in sella Do You Bike? 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 Do You Bike?